Dal nostro mondo, il tuo divano Calia Italia. Il design. Il comfort. La qualità. Le nostre idee si trasformano in emozioni. L'artigianalità. La passione. Il cuore. La tecnologia e i 40 anni di esperienza rendono i nostri divani unici per la tua casa. Calia Italia. Divani di famiglia. I divani Calia Italia li trovi da Turco Laredamento, via Europa 84, Campora San Giovanni, Cosenza. Telefono 0982 46 089.